Ciao ragazzi, ciao a tutti, buon sabato. Anche di sabato non si molla assolutamente e vi continuiamo a dare aggiornamenti per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. In questo momento in cui sto girando il video, la Fiorentina sta giocando l'amichevole precampionato contro il Friburgo, sta vincendo 2-0. I gol di Ken, meraviglioso, veramente un gol che mi fa ben sperare, nonostante io abbia un po' di timore e qualche riserva nei confronti di questo giocatore. E poi il gol di Rolando Mandragora su calcio di rigore. Poi ci sono ancora 20 minuti circa di partita, io il video lo pubblicherò al termine della partita, quindi insomma avrò modo anche di vedere la parte finale del match e ovviamente il risultato finale non lo saprò. In questo momento ribadisco la Fiorentina sta vincendo 2-0 in terra Teresca contro il Friburgo. E allora, non sono molte, voglio essere proprio sincero, le notizie di mercato che vi vado a raccontare perché ve lo dico da ieri, ve l'ho detto ieri l'altro, ve lo dico da quando ho iniziato a fare i video tutti i giorni, oggi è sabato 10 agosto. E vi ribadisco due concetti importanti. Il primo, io vi do le notizie che so, vi do le notizie che ho potuto verificare, vi do le notizie che non quelle che vi volete sentire, a differenza di tanti, ma quelle che io posso darvi in quanto riscontrate, verificate, eccetera. La seconda, qualunque tipo di discorso che viene fatto alle, per esempio, 18 di sabato, alle 18.10 potrebbe essere l'esatto opposto, non perché si tira a caso, ma perché le dinamiche del mercato, del calciomercato, cambiano di continuo, ok? Faccio questa, sempre questa doverosa cappella, proprio per evitare spiacevoli inconvenienti. Grazie davvero, grazie davvero, grazie davvero, perché state dando un sostegno incredibile a questo canale, vedo che il calciomercato vi piace, vedo soprattutto che apprezzate la qualità dei video che faccio, perché, lo dico spessissimo, prendere Firenze e Viola, Fiorentina News, Viola News e leggere a pappagallo, ci riescono tutti. Commentarla, analizzarla, verificarla, ci riescono in pochi. E su YouTube credo che ci sia soltanto passione fiorentina, avendo Flavio Nissante anch'esso giornalista, che magari può piacere o non piacere, ma a volte, comunque, insomma, ci sono notizie, c'è un esperto di mercato come Alfredo Pedulà, quindi, insomma, io credo che non ci siano... Gli altri YouTuber, da tantissimi, da migliaia di iscritti, eccetera, al quale voglio bene, per l'amor di Dio, però vanno a prendere, appunto, le notizie e fanno un commento, ma chiaramente non è il loro compito quello di verificarle. Bando alle ciance. Nico González, ho finito di fare il video ieri, di pubblicarlo su YouTube, e stavano iniziando le prime voci, specialmente Sky Sport, che dava per fatto il prestito oneroso, con obbligo di riscatto, la parte della Juventus nei confronti di Nico González, nei confronti della Fiorentina. Io non voglio, ovviamente, andare contro a Sky. La situazione che attualmente questa persona che sta parlando, cioè questo bischero che si chiama Leonardo Andrini, che sta parlando e ci mette la faccia, non è proprio come sta dicendo Sky. Poi, magari, fra un minuto accadrà quello che ieri dice Sky. Al momento la situazione è, Fiorentina e Juve non hanno, in questo momento, in mano delle offerte, cioè la Juve non ha fatto partire da Torino un'offerta ufficiale nei confronti della Fiorentina. E quando non partano offerte ufficiali, ma solo flirt importanti tra giocatori e Juventus, capite bene che al momento la parte più importante del matrimonio manca all'appello, manca all'altare la Fiorentina. È chiaro, sono chiarissime le richieste di Commisso, Pradè e Company. Va bene cedere Nico, ma lo scegliamo con un prestito, con obbligo di riscatto a 30 milioni. Non vogliamo contropartite a stile McKennie, non vogliamo altri giocatori. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Punto. E anche basta. Quindi, come detto ieri, Nico non è partito per la sfida in terra tedesca contro il Friburgo, e quindi, come tale, questo ha fatto scatenare le fantasie erotiche dei tifosi juventini. Calma, perché probabilmente si farà questa situazione qua, ma allo stato attuale non ci sono offerte ufficiali della Juve nei confronti della Fiorentina. Atalanta e altre squadre estere che c'erano, perché c'erano, si sono per il momento messe accantonate da una parte, pronte eventualmente, specie l'Atalanta, a fare un dispetto alla Juve. Bene, questo è il capitolo per quanto concerne Nico, Gonzales, Juventus e tutto il resto. Tesman, io ve l'ho detto in tutte le salse che questa trattativa era praticamente arenata. Ve lo posso continuare a dire, perché la Fiorentina c'è rimasta male, secondo me in netto ritardo, ma c'è rimasta male rispetto a quel trattamento ricevuto dagli agenti del giocatore, Di Francesco non ha convocato Tesman per la sfida tra Brescia e Venezia in programma domani alle ore 18 di Coppa Italia. Questo potrebbe essere anche questo un discorso da attenzionare. Ricordo che, oltre a bloccare la trattativa fiorentina-Venezia, sta bloccando anche la possibilità di far incassare a Venezia quei soldi che potrebbero servirgli per andare a bussare la porta della Juventus e prendere Nicolussi-Caviglia. Non ha soldi in Venezia per fare un'operazione del genere. Li potrebbe avere o li avrebbe potuti avere qualora fosse riuscita a vendere Tesman. Allo stato attuale la situazione non è assolutamente migliorata, non filtra quindi ottimismo. Sono passati 35 giorni da quando si è iniziato a parlare di Tesman. È il 10 agosto. Ancora Tesman alla Fiorentina non è arrivato. E dubito a questo punto che possa arrivare. Poi c'è la notizia di Terracciano. Terracciano bivio, bivio, bivio. Lui deve capire cosa vuol fare. Probabilmente ha deciso di rimanere a Firenze anche perché ha la famiglia qua, anche perché spostare comunque i figli piccoli non è facile e via discorrendo. E quindi l'ipotesi Monza potrebbe essere tramontata. Tra l'altro il Monza ha questo porterino 2002 che ieri ho visto all'opera contro il Schuttirol che oggettivamente non mi dispiace a Pizzignacco se non ricordo male si chiama. Bellino, mi piace molto. Non so se sarà lui poi il portiere titolare del Monza. Terracciano quindi al bivio. Se lui decide di non andare al Monza, non ci sono al momento altre squadre italiane che lui vorrebbe comunque rimanere in Italia che sono interessate a lui, ecco che parte obbligatoriamente il possibile rinnovo. Quindi da partire quasi di sicuro dopo l'arrivo di Deghea al poter rimanere alla Fiorentina. Ci potrebbe essere un rinnovo fino al 2026, più o meno l'ingaggio non dovrebbe arrivare intorno al milione di euro e quindi Terracciano è prontissimo a mettersi a disposizione. Anche perché, ve lo dico sinceramente, con tutto il bene che si possa volere a Deghea, pensare che Deghea con 4-5 allenamenti possa sabato pomeriggio giocare a Legno Tardini mi sembra molto strano. Quindi la Fiorentina vuole tutelarsi, anche perché ribadisco Deghea al di là del Legno Tardini, al di là della prima partita, Deghea va capito perché è una grande scommessa al di là di tutto. Quindi va capito come sarà, come reagirà, come entrerà, come tornerà ad essere quello che ci auguriamo che era a Manchester. E quindi va capito, la Fiorentina vuole un gran secondo portiere. Per me Terracciano, che ricordo essere dopo Di Gregorio il miglior portiere per gole evitate della stagione 23-24, sinceramente potrebbe essere interessante la possibilità di mantenere Terracciano come secondo portiere, a quel punto partirebbe Christensen e probabilmente partirebbe in prestito anche Martinelli per giocare in Serie C. Quindi contratto fino a 2026 per Terracciano con un ingaggio che non dovrebbe arrivare al milione di euro l'anno. Fatemi sapere che cosa ne pensate se ci fossero clamorose novità ovviamente interverremo a Sprombattute. Ciao a tutti e buon sabato e probabilmente anche buona domenica.